360 gradi la W l'anno prossimo siccome verrà fatta all'incontrario parte da là vengono fuori da così questo qua è il famoso d'ossodo vanno su da lì ritornano indietro vanno giù dal massuccio ritornano dalla nostra parte e ritornano verso Tirano ma a Tirano non vanno giù Tirano, Tirano vanno a Baruffini